Il mio cugino Bertram è uno di quei nevrotici che, senza essere minimamente raffreddati, durante i concerti cominciano di più in bianco a tossire. La cosa comincia con una blanda, quasi gentile, raschiatina di gola, non dissimile dalla cordatura di uno strumento, poi man mano aumenta, finché con una snervante conseguenzialità assorge ad un abbaiare esplosivo che fa sventolare come leggerissime vele i capelli delle signore sedute dinanzi a noi. Conforme alla sua sensibilità, Bertram tossisce forte quando la musica scende al pianissimo, più leggermente quando invece aumenta di volume dal forte al fortissimo. Con quella sua voce sgradevole gli costituisce, per così dire, un contrapunto disarmonico. Per di più, siccome ha una memoria eccellente e conosce le partiture da cima a fondo, mi fa quasi da guida musicale, a me che ho così poca cultura. Quando comincia a sudare, le orecchie gli si arrossano, quando trattiene il fiato e tira fuori di tasca delle pasticche per la tosse, quando comincia a diffondersi un odore penetrante di eucalipto, ecco, io so che la musica promette di attenuarsi. E in effetti l'archetto del violinista sfiora appena lo strumento, le mani del pianista sembrano alleggiare i materiali sul pianoforte, un'interiorità tutta tedesca che par quasi di afferrare coi sensi si diffonde per la sala. E Bertram siede ora con le guance gonfie, negli occhi una profondissima melanconia, finché di colpo esplode. Dato che nella nostra città i concerti vanno solo le persone ben educate, è naturale che nessuno si volte a guardarlo e nemmeno bisbigli qualche formula pedagogica al suo indirizzo. Eppure si sente come il pubblico stenti a reprimere l'indignazione, come ogni volta abbia un sussulto, perché ormai Bertram non ha più freni. esce dalla sua con un mugito, quasi ininterrotto, che poi decresce quando il tempo da eseguire piano volge finalmente al termine. Dopodiché Bertram drangugia tutto quel succo di eucalipto, il suo pomo da mamma va su e giù come un ascensore molto veloce. La cosa tremenda è che Bertram, con la sua tosse, sembra chiamare in lizza tutti gli altri nevrotici più o meno latenti, come cani che si riconoscono all'atrato, quelli gli rispondono da un angolo all'altro della sala. E cosa strana, io stesso, che di solito non mi raffreddo mai, ho tutt'altro che i nervi scossi, io stesso sento la voglia sempre più insopprimibile di tossire. Sento che le mani mi si inumidiscono, che un crambo interno mi afferra. A un tratto so che ogni sforzo è inutile, so che dovrò tossire. Mi sento raschiare in gola, non riesco più a respirare, sono in un bagno di sudore, il mio spirito è fuori servizio. La mia anima è piena di angoscia esistenziale. Comincio a sbagliare la respirazione, tiro fuori il fazzoletto nervosamente per premerlo davanti alla bocca in caso di emergenza. Ormai non ascolto più il concerto. Ma l'abbagliare nell'evrotico di questi ipersensibili che da un momento all'altro sono stati fatti scendere in lizza. Poco prima dell'intervallo mi accorgo che l'infezione ha toccato il fondo. Ormai non resisto più, comincio a emulare Bertram, arrivo tra un colpo di tosse e l'altro fino all'inizio della pausa. Poi corro al guardaroba, appena iniziano gli applausi, marcio di sudore scosso dalle convulsioni, corro all'aperto, passando davanti al portiere. Ciascuno capirà che ho cominciato a rifiutare con cortese e fermezza gli inviti di Bertram. Solo di tanto in tanto partecipo con lui a qualche manifestazione culturale quando sono sicuro che in orchestra prevalgano gli ottoni o che cori rigorosamente maschili intonino canti come il rombo del tono o la slavina, composizioni insomma dove sia garantita una certa quantità di fortissimi. però questo tipo di musica è proprio quello che mi interessa di meno. Non ha nessun senso che i medici vogliano convincermi che è un fenomeno nervoso per cui basta che io faccia uno sforzo di volontà. Lo so che è un fenomeno nervoso. Il fatto è che i miei nervi mi tradiscono quando sono vicino a Bertram. E non c'è sforzo di volontà che tenga. Non ce la faccio proprio. Si vede che stava scritto in cielo che quanto a sforzi di volontà sarei sempre estratto una frana. Adesso scorro con tristezza i programmi della società dei concerti. Non posso accettare le loro gentili offerte perché so che sarà presente anche Bertram. E appena avrò sentito la sua prima raschiatina di gola non riuscirò più a controllarmi. Grazie.